Una comunità viva, una comunità come vediamo dalle tantissime persone che si sono radunate oggi che si sente a casa a Milano e nella Chiesa Ambrosiana. Oggi poi c'è l'Arcivescovo di Milano. Ecco io come già ho scritto nel benvenuto, ho detto questa comunità veramente dall'inizio della sua esistenza quasi cinque anni fa sta vivendo il pieno del sinodo diocesano, chiesa dagli agenti. Io vi darò subito questo esempio concreto da questa vita di unità tra la Chiesa Maronita che è una Chiesa per tutti gli orientali subito perché è stato un tipo di oasis per tutti quelli che vengono dal Medio Oriente e questa è la realtà della nostra comunità. Nel fatto Maronita sì, nel rito, però nella sua esistenza è una Chiesa che accoglie tutti quelli che vengono dal Medio Oriente. Ci sono libanesi, siriani, aracheni, anche egiziani. Abbiamo nella Messa, nonostante che è una Messa di rito a Maronita cattolico, abbiamo nella nostra Messa quelli che sono ortodossi, Maroniti cattolici, Malchite cattolici, Assiri, Caldei, Copti. Dunque tutti quelli che godono un rito orientale tradotto perché il nostro libro, il nostro messale è già tradotto tra arabo e italiano. La nostra comunità che l'ha resa più aperta alla sua realtà ambrosiana, questa possiamo dire non solo la lingua perché sono veramente i nostri parrocchiani, sono padroni della lingua italiana perché sono qua da tanto tempo e la comunità mia è nuova, nel fatto che erano inseriti già nelle diverse parrocchie ambrosiane. Però è venuta questa, possiamo dire, come si dice, questa iniziativa di Saint Charbel che non sapevo io. È stato un tipo di miracolo. Arrivato qua non conosco la gente, la gente non mi riconosce, vi darò un esempio, apro la chiesa e viene gente per chiedermi voi siete cristiani? Ma sì, siamo cristiani. Perché? No, non sappiamo. E dunque in questo stesso anno, quando è arrivato il momento di Saint Charbel, era una festa normale, non avevamo né reliquie, né niente, un quadro piccolo, facciamo la festa di Saint Charbel e poi andiamo via in ferie. Ho aperto la chiesa quel mattina e riempita così. Riempita così. Io non ho saputo come riempita e perché non sapevo nessuno qua. Veramente, Saint Charbel, il Spirito Santo, e sono stato stupito che quel santo è già stato stimato in questa diocesi. E quella iniziativa ci ha aperto pienamente alla diocesi. Dunque è stato questo scambio molto forte tra la nostra comunità e tra la diocesi di Milano. Per cui, io dico, veramente siamo da quel momento della nostra esistenza, vivendo questa piena unione che ha voluto Monsignor Del Pini nel sinodo Chiesa delle Genti. E stiamo esprimendolo sia nelle messe normali della domenica, che vengono da noi, come ho detto, da tante religioni, anche adesso vengono un po' di amici ambrosiani, e sia nella festa grande che esprime veramente questa esplosione del scambio culturale e religioso tra le chiese etniche e la diocese di Milano. Dunque siamo contenti che veramente, senza volerlo, non lo vogliamo, però senza progettarlo, è diventato così concreto. Quello che ha reso questa festa più speciale è che il Monsignor Del Pini ha a conto della nostra richiesta che viene qua per essere lui, che presiede quest'anno questa festa, e lui vede con occhi come stiamo vivendo questa comunione nella diversità. Siamo uniti nella diversità per vivere veramente il corpo mistico di Cristo, che è tutti cristiani, tutti battizzati. Siamo lieti veramente che, nonostante che sia una comunità, possiamo dire, modesta, piccola, perché la migrazione libanese è molto piccola, il mio console libanese dice che tutti, musulmani e cristiani, in Italia siamo quasi 4.000-4.000 qualcosa, e sono dispersi in tutta l'Italia, dunque per capire quanto è la nostra comunità è molto piccola.